In seguito alle numerose proteste portate avanti in primis da WWF Italia e guide del Borsacchio e altre associazioni nonché alle valutazioni legali del Ministero della Cultura e alle raccomandazioni del Ministero dell'Ambiente, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ha inviato una lettera che ritratta la decisione presa il 29 dicembre di ridurre del 98% la riserva regionale del Borsacchio. Una mossa che per gli ambientalisti è fatta per prevenire un'azione legale da parte del Governo davanti alla Corte Costituzionale. È stato confermato quanto abbiamo detto fin dall'inizio, vale a dire che questa norma che ha tagliato la riserva regionale del Borsacchio era una norma incostituzionale. La Regione ha evitato il ricorso da parte del Governo alla Corte Costituzionale grazie a una lettera del Presidente Marsiglio che sostanzialmente si impegna a congelare gli effetti del taglio e a riportare al primo consiglio utile una nuova discussione per una nuova perimetrazione. Ovviamente si tratta adesso di capire di che cosa si andrà a discutere perché noi riteniamo che la riserva non possa essere tagliata, la riserva deve tornare i suoi 1.100 ettari originari con la tutela sia della fascia costiera che della fascia collinare. Quindi ci aspettiamo dalla Regione un atto che vada assolutamente in questa direzione. Gli ambientalisti ora chiedono che la riserva torni al suo perimetro originario e che sia approvato il PAN e il piano di assetto naturalistico. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell'Associazione Guide del Borsacchio Marco Borgatti che da anni si batte per la difesa e la promozione della riserva. Ora però è il momento di lavorare. L'unica cosa che è importante sottolineare è che ci sono molte scelte ma ne esiste una sola rapida, abrogare la legge e sostituirla con una che rimette la riserva così com'era perché qualsiasi modificazione, anche di un ettaro, vuol dire ripartire con tutto l'iter, un nuovo iter comunale, un nuovo PAN, una nuova fase di osservazioni, di approvazione, di adozioni in regione. In genere ci vogliono dai 7 agli 8 anni e sono altri anni che questa città e che la Regione Abruzzo non può attendere. Si può ritornare come prima, si può portare il PAN che è già pronto e magari valutare in un secondo momento se ci sono delle modifiche da fare al PAN o ai confini della riserva. Una riserva non è né un ettaro troppo o poco, né 10.000 ettari troppo o poco. Se sono fatti bene, governati bene, gestiti bene, anche 2.000 ettari sono una risorsa. Se invece sono governati male, anche un ettaro è troppo.